Un risarcimento di 10 euro per ogni immigrante che arriva a Pozzallo. A chiederlo è il sindaco del comune ragusano, uno dei più convolti nell'accoglienza dei profughi soccorsi a largo della Sicilia. Luigi Amati una spiega che l'amministrazione viene risarcita fino all'ultimo centesimo per l'accoglienza data ai migranti. Ma, sostiene il sindaco, questo non basta. Ci sarebbe infatti un rapporto di causa-effetto tra gli arrivi degli immigrati e il calo di presenze turistiche. Negli ultimi anni, sostiene Amatuna, il turismo nella zona ha subito un crollo vertiginoso e quest'anno non va meglio. Molti operatori si sono visti cancellare le prenotazioni per l'estate. Da qui la richiesta di un risarcimento. Intanto, nelle ultime ore si è registrato un forte rallentamento degli sbarchi rispetto a quanto visto negli ultimi giorni e soprattutto rispetto ai numeri astronomici di arrivi nel fine settimana quando i mezzi della Marina Militari impegnati nell'operazione Mare Nostrum avevano salvato oltre 3.500 persone a bordo dei barconi. Niente più auto, né autobus, né taxi. Adesso la via Maqueda sarà percorribile esclusivamente a piedi o in bici. Unica eccezione ai mezzi di soccorso, purché in emergenza, e le auto dei residenti, che però potranno accedere soltanto ad una velocità massima di 10 km orari e nel tratto necessario a raggiungere le abitazioni. La nuova zona traffico limitato in vigore, così come recita l'ordinanza del sindaco dal 4 giugno ogni giorno dalle 10 alle 20, di fatto trasforma la via Maqueda in qualcosa di molto più vicino ad un'isola pedonale e soprattutto riserva la priorità a pedoni e ciclisti. I primi potranno camminare senza problemi lungo le zone laterali della carreggiata. Chi va in bici, invece, potrà percorrere la sezione dedicata lungo la carreggiata centrale e larga in tutto circa 4 metri, carreggiata che però viene divisa in due corsie a separarle le fioriere a prova di vandali, realizzate cioè in ferro e imbullonate direttamente all'asfalto. L'economia della Sicilia non vive uno dei suoi momenti migliori. È passato quasi un mese dall'ultimo forum dei tre sindacati principali, Will, Cisle e CGL, e la situazione è rimasta immutata. I sindacati tengono alta l'attenzione sulla situazione politica regionale, l'inefficienza dell'economia e sulle fibrillazioni inconcludenti interne alle forze politiche. Sono sempre gli stessi temi, argomenti in abbattaglia tra sindacati e ARS che sembra non trovare una conclusione. La prima modifica sostanziale è il modo in cui verranno spesi i soldi messi a disposizione dalla regione per i corsi. Non ci sarà più un finanziamento diretto ai singoli enti di formazione, ma saranno gli stessi studenti che avranno a disposizione un buono da 4.000 euro da spendere per finanziare i corsi. Per ottenerlo bisognerà partecipare al bando che la regione prevede di pubblicare nei prossimi mesi. L'intenzione è dunque quella di smontare il cardine del sistema attuale della formazione, ovvero l'accreditamento ai singoli enti, che ha finito per creare non pochi intoppi e anomalie fino al collasso dell'intero sistema. Da parte loro gli enti della formazione dovranno rivedere anche il modo di gestire i propri corsi. Dovranno infatti necessariamente collegarsi con le imprese, le università e le scuole, puntando su lezioni teoriche e pratiche. Anche in questo caso è previsto un bando che dovrebbe arrivare entro la fine del mese e dare così due mesi di tempo agli enti per attrezzarsi.